Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presento ZBrush, un software utilizzato tantissimo nell'industria, soprattutto dei videogame, per quanto riguarda la modellazione di diverse cose. È possibile modellare di tutto con questo programma, dal più semplice sassolino a un completo personaggio a una complessa astronave. È possibile modellare di tutto e di più. In questo video vedremo soltanto quelle che sono le basi del programma, non mi soffermerò nelle parti profonde del programma, nelle cose complicate, anche perché la mia conoscenza del programma è ancora abbastanza limitata e quindi mi limito a parlare di quello che già so del programma. Innanzitutto, quando si apre il programma, ci si presenterà questa schermata di qui. Questa si chiama Lightbox. Da questa schermata è possibile importare una scena già preesistente. Di solito è preferibile partire sempre da una polisfera, non da una dynamesh. Adesso vedremo anche la differenza tra le due. Oppure da un cubo, a seconda di quello che si vuole modellare. Io adesso vado ad importare una polisfera, facendo doppio clic sulla polisfera, e qui avremo appunto il preset, diciamo, tra virgolette, della base del nostro futuro modello. Io sto utilizzando una tavoletta grafica, una Wacom Intuos Drove, che non è una di quelle tavolette grafiche con il display incorporato, ma è una di quelle in cui bisogna guardare sul monitor quello che succede. Quindi, per quanto riguarda la modellazione 3D, va più che bene, però ovviamente è consigliabile sempre utilizzare una tavoletta grafica che abbia il display incorporato, perché sono sempre le migliori. In ogni caso, la mia tavoletta grafica ha comunque uno stilo con i diversi livelli di pressione, quindi è possibile utilizzare diverse pressioni per avere maggior effetto sulla nostra modellazione. Ad esempio, se io premo piano sulla tavoletta grafica, andrò a fare un lieve leggero ricalco, mentre se premo più forte, andrà ad estrudere di più la mesh. Vediamo intanto i comandi base. Come comandi base è possibile muovere la visuale trascinando questo pulsante di qui, Move Edited Object, e quindi è possibile muoversi sull'asse Y e sull'asse X. Per invece zoomare, bisogna trascinare su Zoom 3D, Scale Edited Object. È possibile infatti avvicinarsi e allontanarsi. È possibile poi ruoteare con quest'altro pulsante qui. Mettendo l'auto Shift, mentre si fa la rotazione, è possibile avere una visuale frontale, laterale, diretta e così via. È possibile anche ruotare l'oggetto, ruotare comunque il punto di vista, trascinando nel vuoto. Se teniamo premuto Alt, mentre trasciniamo nel vuoto, è possibile muovere la visuale e per zoomare si usa sempre questo di qui. Inoltre è possibile tenere premuto spazio per accedere ai diversi comandi. Anche qui abbiamo Move, Scale, Rotate. È possibile anche modificare la dimensione del nostro pennello. E con Set Intensity modifichiamo l'intensità del nostro pennello. Quindi se premiamo leggermente sulla tavoletta grafica avremo questo effetto qui. Se invece modifichiamo l'intensità, anche premendo leggermente sulla tavoletta grafica, avremo un effetto comunque più forte. Questo è utile ad esempio per le prime fasi di modellazione in cui si deve modellare una parte molto larga del modello e quindi occorre una intensità maggiore. La cronologia della nostra modellazione è questa barra qua sopra in alto. È possibile quindi andare in un punto qualsiasi della cronologia della nostra modellazione. È molto più comodo rispetto a quella ad esempio di Photoshop perché è possibile andare in un punto specifico e modificare quel punto specifico. In questo modo ovviamente quel punto diventerà l'ultimo e da qui si continua poi a modellare. Se ad esempio si è fatto un errore, si torna indietro e si può modificare qualcosa nel nostro modello ovviamente risettandolo fino a quel punto e poi riprendere a modellare. È decisamente molto più comodo e molto più rapido rispetto a premere sempre CTRL Z, CTRL Z fino a che non si torna in quel punto e si va poi a correggere l'errore. Di default avremo la simmetria, come potete vedere, per modellare. Questa è possibile disattivarla o modificarla andando su Transform e quindi si può attivare o disattivare la simmetria. E si può anche attivare su diversi assi. Ad esempio posso attivarla anche sull'asse Y e avremo una simmetria quadrupla oppure ancora possiamo attivarla anche sull'asse Z e avere una simmetria totale. Quindi avremo una simmetria sia su questa faccia che anche sull'altra faccia del nostro oggetto. Si può anche attivare soltanto X e Z per poter modellare qualcosa su entrambe le facce. Notate che quando vado a estrudere la mesh, quindi vado a lavorare sul modello, è tutto pixeloso e in bassa qualità. Questo perché la polisfera non è suddivisa. Per suddividere il nostro modello, quindi aumentare il polycount, ovvero il conteggio di poligoni, e fare un modello molto più complesso a livello di poligoni, quindi che consuma molta più memoria, però allo stesso tempo ci permette di fare esempio i dettagli molto più sottili del nostro modello, si va su Geometry qui a destra nell'interfaccia default e si può poi suddividere cliccando su Divide. Notate che ogni volta che divido migliorerà sempre di più la qualità del modello, ma allo stesso tempo diventerà anche più pesante e più laggosa. Si può dividere fino a un certo punto e poi bisogna modificare il file di preferenza per modificare il numero massimo di polycount. notate adesso rispetto a poco fa com'è appunto più definito il modello. si può anche tornare indietro nella suddivisione, e notate come sarebbe altrimenti, pixeloso come la grafica di un gioco per PS1, PS2 e PS3. comunque sia, la qualità è decisamente migliore con un polycount più alto. ovviamente se volete fare dei modelli molto complessi, dovete modificare il numero massimo di polycount nelle preferenze e suddividere ancora di più. Vi ricordo che ovviamente la suddivisione consuma molta più memoria RAM, quindi dovete avere un computer molto potente, con almeno 32 GB per poter modellare ad esempio con una suddivisione di 20, perché altrimenti rischiate di appunto consumare tutta la memoria, il problema laggerà tantissimo, tra l'altro lo sto anche registrando con lo stesso pc, non con questa caricatura, e quindi si finisce che non si può poi lavorare tanto bene. La differenza quindi tra le polisfere e le Dynamesh è questa, che praticamente permette di suddividere di più in un certo senso. Premendo B si accede alla selezione dei pennelli, è possibile scegliere tra diversi pennelli, e poi è possibile anche importare e crearne di nuovi. Non ho mai provato a creare dei pennelli, quindi non mi soffermo su questo aspetto di ZBrush, ci sono comunque tanti tutorial su YouTube, è possibile anche importare dei pennelli scaricandoli da internet. Alcuni sono gratuiti, alcuni trovate a pagamento, ma comunque ci sono diversi pennelli che possiamo utilizzare, già preinstallati nel programma stesso. Quello di default, quello standard appunto, permette di estrudere la mesh, oppure tenendo premuto alt, di spingere all'interno la mesh, quindi permette di scolpire in modo molto basiliare. dentro del modo Shift è possibile smussare, questo con qualunque pennello. Comunque sia c'è anche il pennello proprio Smooth, che fa la stessa cosa. Si può appunto usare premendo Shift e cliccare, che sarebbe appunto questo stesso. di solito lo Smooth si utilizza per le rifiniture finali, o per cancellare, come in questo caso. Con tutti i pennelli funziona la pressure della travolta grafica, quindi smussa di meno, smussa di più, in base a quanto si preme sulla travolta grafica. E' possibile modificare ovviamente la sensibilità della pressione della travolta grafica dal software della Wacom. Cliccando qui e andando poi su Search, scrivendo Wacom, se avete questa travolta grafica, possibile poi andare su Pen e modificare appunto il Tip Fill. più morbido, quindi più si preme e se avete già un tocco più morbido, oppure un tocco più pesante. Difficile notare la differenza in un video, perché chiaramente non vedete proprio come viene pressata la penna sulla tavoletta grafica. Comunque queste sono le impostazioni da modificare per darvi l'idea. Di solito io lo tengo a metà e non mi creo nessun problema. Lo lascio così com'è. Se poi il programma richiede una pressione troppo alta, quindi il rischio poi di spezzare sempre da punta, allora vado poi a modificare quell'impostazione di linea nella tavoletta grafica soltanto per quel determinato programma. Quindi ho diversi settaggi per Photoshop, Cinema 4D, ZBrush, eccetera. Un altro pennello molto utile è il Clay Build Up. Questo pennello aggiunge praticamente l'argilla, in un certo senso, e permette appunto di scolpire in questo modo. Possibile ovviamente sia aggiungere, come soffrendo adesso in questo momento, sia anche togliere sempre tenendo premuto Alt. E quindi fare esempio degli incavi nel nostro modello. Aumentiamo la suddivisione perché è orrendo. Ok. Possibile quindi aggiungere degli incavi nel modello e smussare. Aumentando la suddivisione noterete che i tratti sono molto più dettagliati. Vedete proprio i singoli quadratini quasi. E quindi poi smussando ottenete il risultato vero e proprio. Quindi potete vedere smussare è una delle cose più importanti quando si modella su ZBrush. Ma anche su Cinema 4D perché alla fine è quasi lo stesso metodo di modellazione. Lo stesso stile. Un altro pennello utile è il Curve Tube che permette di creare delle protuberanze. Però se la mesh è composta da diversi livelli di suddivisione questo non funzionerà. Quindi bisognerà prima frizzare i livelli di suddivisione cliccando su Freeze Subdivision Levels. E quindi poi si può andare a creare la nostra protuberanza come in questo caso. È possibile anche muovere in questo modo e riposizionarlo come vogliamo. È utile esempio per fare che sono le micce in alcune bombe. È possibile utilizzarlo per fare dei capelli in alcuni personaggi, braccia e quant'altro. Perché poi è possibile modificare anche questo di qua singolarmente. Anche questo si può smussare, si può modificare con lo strumento standard. Quindi si può poi scolpire qua stesso. È possibile muoverlo con il Move Brush. Qui si può deformare. Diventa quasi come un modello a parte del nostro modello principale. E come potete vedere il modello principale non viene intaccato mentre si lavora singolarmente su questo. Perché viene a crearsi una specie di maschera. Quindi poi si può anche ricolorare questo singolo coso a parte rispetto al modello per intero. Non ho mai diciamo colorato i modelli che ho fatto finora perché ripeto non conosco il programma ancora molto a fondo. Però si può colorare in questo modo scegliendo un materiale e modificando il colore da qui. Una volta poi completato il lavoro sui modelli extra, tra virgolette, è possibile sbloccare di nuovo i livelli di suddivisione su Reconstruct Subdivision. Un frizzare, defrizzare come volete chiamarlo. Questo laggerà un attimo. E a volte il programma sembrerà anche che stia crashando. Però vi assicuro che in realtà sta sbloccando i livelli di suddivisione. Questo ci mette un po' perché appunto va a ricostruire tutti i singoli poligoni. Quindi se avete un modello con un policloud molto alto, come dicevo prima, richiederà molto più tempo quando aggiungete dei particolari extra come ho fatto io in questo momento. A volte ci mette anche 5 minuti per sbloccarsi con il mio PC. Però alla fine, come vedete, ritorna esattamente come era prima con i livelli sbloccati, quindi senza perdere i dettagli e in più avremo questi modelli extra. Non so sicuro se è possibile isolarli e tornarci a lavorare di nuovo con questi, bloccando tutto il resto. Penso che ci sia un modo, però non so esattamente come si faccia. Non so cosa ho creato, ma è mostruoso. E' possibile aprire la lightbox in due modi o cliccando su lightbox qua sopra in alto oppure premendo virgola. Altra ciotola da tastiera, sono premendo M, è possibile prendere subito un modello, importarlo quindi nella scena come pennello e poi non sono sicuro di come si utilizzi. Per esempio per modellare i capelli è molto utile attivare la simmetria anche sull'aste Z. Per questo viaggia sia il lato frontale che anche il lato posteriore direttamente con un solo punto di vista e velocizzare il lavoro. L'interfaccia è customizzabile al massimo, ogni pannello si può spostare e mettere dove si vuole. E questa è una cosa che veramente mi piace di ZBrush e di qualunque altro programma che abbia l'interfaccia così malleabile, come ad esempio Photoshop, Gineo 4D e quant'altro. Infatti posso ad esempio prendere questo pannello della simmetria, spostarlo da qui, in questo modo, ad esempio andarlo a posizionare qua sopra. E posso lavorare direttamente con queste cose di qui, direttamente da qui, molto più comodo rispetto a prima. Possibile anche muovere il modello, ruotarlo, scalarlo e fare delle deformazioni orrende. Parlando poi di altri pennelli che consiglio di utilizzare parecchio, ci sarebbe il Fracture, che consente di creare delle fratture sul nostro modello. Ad esempio se dobbiamo creare un vecchio muro o qualcosa del genere, si possono creare appunto delle fratture, delle scheggiature con questo pennello. Veramente molto carine, anche se molto basiliari, essendo un pennello di quelli predefiniti. Chiaramente questo è uno di quei pennelli che si vede molto meglio con la suddivisione più alta. Potete vedere, è possibile aggiungere dei dettagli, delle greens, fratture e cose del genere, in maniera molto facile con questo pennello. Consiglio anche di attivare la similatria per questo. Prendendo F, è possibile zoomare sull'intero modello, in questo modo. Potete vedere, va a costruire appunto delle fratture molto 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 fighe. Molto utile anche per creare esempio delle cose organiche, molto ben dettagliate, ecco. O poi si può lasciare anche grezzo, così com'è. E con altri, come sempre, andiamo invece a sottrarre geometria al modello. Non immagino come sarebbe usare questo programma con il mouse, quindi vi consiglio di usare sempre una tavoletta grafica per programmi di questo genere. Ad esempio posso creare anche un cratere sul, su questa cosa qui. Tenendo premuto Alt e andando a scavare in questo modo, facendo dei cerchietti sulla tavoletta grafica. Abbiamo un cratere, che si può anche smussare leggermente, se preferite. Ed è leggermente più dettagliato rispetto ad andarlo a scavare con esempio lo strumento standard. Notate la differenza. Molto meglio con il Fracture Brush. Poi abbiamo il Flakes. che in pratica va, in un certo senso, a modificare la geometria in questo modo con un'immagine alfa. Possibile importare qualunque tipo di immagine alfa, anche dei disegni vettoriali veri e propri, come questo. e quindi il pennello andrà a utilizzare quest'immagine, come potete vedere qui, vediamo se riesco, ecco, più o meno. Andrà a utilizzare quest'immagine proprio come, come pennello. Come punta il pennello. In poche parole, il Data Brush ci consente appunto di modellare il nostro modello in questo modo. Appunto, andando a aggiungere geometria o sottrarre geometria, smussare. e muovere anche la geometria così com'è, con il Move Brush. Qui si può prendere un pezzo in questo modo, ad esempio, e tirarlo fuori così. Si può smussare, si può invertire così. Le possibilità sono infinite, infatti quello che riescono a creare con questo programma è veramente qualcosa di eccezionale. Ho visto dei modelli fatti con questo programma che sono fenomenali. Non ho ancora capito bene come si fa ad esempio a colorare diverse parti del modello con diversi colori. Non ho ancora capito bene come si utilizzano più materiali in un singolo modello. Però un modo ci sarà sicuramente ed è una delle cose che ancora devo scoprire di questo programma. Perogiamo le cose basi, che appunto sono le cose di cui volevo parlare in questo video. Già le conosco abbastanza bene, quindi mi sono sentito abbastanza pronto e preparato per poter fare questo video. Infine, un ultimo pennello che vi consiglio è il Dumb Standard. Il Dumb Standard ci consente di creare delle insenature, in questo modo, nel modello. Mentre tenendo premuto Alt andrà a creare delle altiture, non credo che si dica così. Comunque sia, crea delle fosse, dei canyon e delle montagne. Chiamiamoli in questo modo che è molto più facile anche da capire. Ovviamente aumentiamo sempre un po' la suddivisione per vedere meglio l'effetto. Potete vedere, è possibile creare, ad esempio, dei tai. Ad esempio, se state modellando la faccia di un personaggio con questo pennello, è possibile creare, ad esempio, delle cicatrici, in maniera molto molto facile, molto semplice. E' possibile anche creare, appunto, dei canyon, se state modellando un mondo o qualcosa del genere, una sorta di mappa, una cosa del genere. E' possibile creare, appunto, dei canyon o delle montagne, delle catene montuose, in modo molto veloce e semplice. Con tutti i pennelli, anche questo, si può smussare nel doppio modo shift. Ed è veramente uno dei pennelli migliori, che utilizzo tantissimo per fare delle piccolissime rifiniture. Infatti, solitamente, questo pennello si utilizza alla fine, o quasi alla fine, quando si ha una suddivisione molto alta, tipo livello 8 o 10, e si vanno a creare quelle piccolissime rifiniture finali, tipo, ad esempio, cicatrici, come ho detto poco fa, o canyon, o ritagli, graffi, e cos'è del genere. E' un pennello molto versatile, e molto buono, e veramente uno dei più utili per fare questo tipo di piccola rifinitura. Opposto, ad esempio, avete una mesh creata, presentemente, con Marvelous Designer, e possiamo utilizzare questo pennello per creare delle greens e delle pieghe nei tessuti. E anche, ad esempio, sul corpo di un personaggio, su un mantello, è possibile creare delle greens con questo pennello, in maniera molto rapida, basta fare delle linee in questo modo, smussare, e ripetere. E si creano subito delle greens, in maniera molto facile e veloce. Questo è ZBrush, un programma molto, molto buono per modellare, molto utilizzato, soprattutto nelle industrie di videogiochi, per creare i modelli per tantissimi giochi. ZBrush si è utilizzato anche per modellare, ad esempio, i modelli di alcuni Call of Duty, se non erro, e anche altri giochi molto più interessanti di Call of Duty. Io sono ancora alle basi, all'inizio di questo programma, quindi ancora non lo conosco a fondo, però comunque sto cercando di approfondire questo programma qua, perché è molto utile, molto buono per, appunto, modellare e fare cose del genere. Con il mouse, potete vedere, non abbiamo la pressione, quindi è molto più difficile creare delle rifiniture con il mouse, però, se ad esempio avete un DPI molto alto, potete fare, ad esempio, delle rughe o dei pori della pelle, in maniera molto veloce, o anche deformare in questo modo il personaggio, o il modello che state facendo. Comunque sia, evitate l'uso di programmi del genere con il mouse. Questo è il mio consiglio personale. Per questo video introduttivo di ZBrush è tutto, un'ultima cosa che voglio farvi vedere è che se fate un modello, qualcosa del genere, e avete poi la cronologia, in questo modo, è possibile fare anche un timelapse di come è stato realizzato questo modello. Andando su Movie e quindi timelapse, poi si bergisera il timelapse in questo modo, oppure, andando su Back History, utilizzerà la cronologia stessa del modello per generare un timelapse. Molto comodo e molto bello. Questa era un'ultima chicca che voglio farvi vedere di ZBrush, che ho scoperto da poco, veramente da poco, e che mi piace tantissimo. Quindi è possibile realizzare dei timelapse se fate dei modelli molto complessi, potete fare dei timelapse in questo modo, senza dover registrare proprio ore e ore di video e poi velocizzarlo. Direttamente dalla cronologia stessa del modello stesso potete generare il vostro timelapse. Detto questo è tutto, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti